E' allarme e disoccupazione nel settore del vivaismo viticolo in provincia di Lecce. Dopo la diffusione del batterio Xylella sugli olivi salentini, l'Unione Europea ha imposto il blocco della commercializzazione delle viti ed ora l'intero comparto è sul piede di guerra. L'emergenza è stata affrontata durante un affollato incontro pubblico che si è svolto nel castello aragonese di Otranto, importante polo nella produzione di barbatelle. Solo fra due mesi il Comitato Scientifico dell'Unione Europea potrà decidere sulla deroga alla misura che vieta la commercializzazione di alcune piante ospiti della Xylella, salvando così la vite. Ma per i vivaisti salentini è un tempo troppo lungo. L'autunno è infatti il momento cruciale per la vendita delle barbatelle e se l'embargo imposto alle aziende salentine non venisse revocato a breve, l'intera produzione dovrà essere distrutta. Sappiamo benissimo che la vite non è patogeneticamente interessata dal Cepo Godiro. Sono 700 persone, minimo, che verranno messe al bando della disoccupazione. Intanto il report scientifico prodotto dall'Italia, che dimostrerebbe come in realtà il batterio che distrugge gli olivi non attecchisce sulle viti, è stato inviato all'Agenzia per la Sicurezza Alimentare per l'esame scientifico. La burocrazia della Comunità Europea perde tempo. Non sappiamo se lo fa in maniera, diciamo, inconsapevole o se invece furbescamente, volendo creare qualche problema, qualche disagio alle nostre produzioni, magari andando anche a favorire qualcun altro. Non possiamo mandare in aria milioni e milioni di fatturato rappresentati appunto dalla produzione vitivivaistica e soprattutto circa 50.000 giornate lavorative che garantisce questo settore.